Enrico Papi torna con, Tilt tieni il tempo, il nuovo game show musicale su Italia 1, dove celebrità si sfidano in esilaranti prove ritmiche. Enrico Papi torna alla ribalta con un nuovo show che promette di unire il ritmo della musica e il brivido della competizione, Tilt tieni il tempo. Ieri sera, infatti, si è tenuta la prima puntata in prima serata su Italia 1, con il celebre conduttore Papi. Scopriamo meglio le regole del gioco e di cosa si tratta. Enrico Papi su Italia 1 con un nuovo game show, Tilt tieni il tempo, ospiti, sfide e puntate. Il nuovo game show musicale Tilt tieni il tempo si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento. Con Enrico Papi alla guida e un cast di ospiti di primo piano, questo nuovo game show musicale regalerà serate di puro intrattenimento. Durante le puntate, Enrico Papi metterà alla prova due squadre composte da volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, in una serie di sfide musicali che terranno tutti con il fiato sospeso. Un game show a tutta musica, al centro dello studio, un gigantesco disco vinile giocherà un ruolo fondamentale nel determinare le prove che i concorrenti dovranno affrontare. Ogni rotazione del disco stabilirà una nuova sfida per le due squadre. Le prove sono pensate per mettere in luce le abilità musicali e la creatività dei partecipanti. Tra i giochi proposti, ci sarà, sfida rap, dove i concorrenti dovranno cimentarsi in una battaglia di rap, utilizzando parole suggerite dal disco. Quasi uguale, una prova di mimica in cui un concorrente, isolato in una cabina insonorizzata, dovrà far indovinare ai compagni di squadra la canzone che sta ascoltando, e, la spintarella, una corsa ad ostacoli a bordo di una piccola auto. Il culmine di ogni puntata sarà la sfida finale, in cui le squadre dovranno indovinare il maggior numero di canzoni in 60 secondi, a cui si aggiungerà il tempo extra guadagnato nelle prove precedenti. La squadra che riuscirà a indovinare più brani sarà decretata vincitrice, e i suoi componenti torneranno a competere nella puntata successiva, portando avanti la loro striscia vincente. Gli ospiti della prima puntata Gli ospiti della prima puntata includono la splendida attrice e showgirl Manuela Arcuri, il noto musicista e personaggio televisivo Joe Bastianich, la showgirl Elisabetta Canalis, la talentuosa Jasmine Carrisi, il famoso speaker radiofonico Marco Mazzoli accompagnato da Paolo Nois, la leggendaria cantante Rita Pavone e il rinomato direttore d'orchestra Beppe Vessicchio.